Sempre le stesse facce, sempre le stesse facce. Sì, sì. No, io t'aspetto. Cosa, Roberto? Senti, sei lì con Tati? Potresti dirle, per favore, che oggi non possiamo... No, non ti dimenticare, per favore. Sì, certo. No, io t'aspetto. Bene, a presto. Prenderti qua. Che cosa ti stava raccontando, tia Milù? Un po' di cose molto confuse. Ognio era stato assalito da alcuni... Con tutto quello che hai speso... ...ineducata, no? Non ti sembra... Può essere una soluzione. E ti dirò un'altra cosa. Una frase come buongiorno... Tu sai perfettamente che vuol dire... Perché dici questo? Pensi che sia il caso di chiamare? Sì, telefono a... Eh no, voglio mettergli premura. Mamma, io ho fatto la mia parte. Adesso papà dovrà fare la sua. Io me ne voglio andare via, a qualunque costo. Ma che... Come? Perché tanto a fretta? Tu sai perfettamente che sono qui solo perché sono stata obbligata. Però adesso me ne voglio andare. Pronto? Centralino? Interurbana? Signorina, per favore, una comunicazione per Santa Edelmira. Santa Edelmira? Sì, e quando si mette in linea la tenuta di Santa Regina, per favore? Tenuta di Santa Regina? Mmh. Mi dà il suo numero di telefono, per favore? È 12 50 20. C'è da aspettare 30 o 40 minuti, più o meno. La richiamo io. Ah, molto bene. Molto bene, grazie. Per favore, vorrei parlare col dottor Teodoro. Pronto? Sono Laura. Chi è al telefono? Quam, per favore, vorrei sapere dov'è mio padre. A Buenos Aires. Come? No, no, non è arrivato. Ebbene, grazie di tutto, eh? Arrivederci. No, no, non credo. Chi che prova a chiamare la polizia... Ah, per me non ha importanza. Che Tonio faccia quello che vuole, che resti pure in discoteca a mostrarsi in tutto il suo splendore. Emo... 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 Chi che va a chiamare la polizia... Emo... Emo... Emo...